Ed eccoci qui ragazzi e ragazze pronti come sempre in compagnia del vostro Diablotex per continuare su Fate Samurai Remnant in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Plion Italia. Come sempre ringrazio tutto lo staff di Plion Italia per avermi gentilmente concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Plion Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Fate Samurai Remnant in versione PlayStation 5. Ringrazio Koei Tecmo Games, tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono. Detto questo possiamo continuare senza perdere tempo. Vediamo cosa ci sarà da fare perché adesso qui la situazione sarà un po' complessa. Speriamo non molto ma... Ok comunque bisogna concentrarsi ecco. Benissimo. Allora L1 qui Perfetto R1 qui abbiamo i Servant giustamente Allora dove si va ragazzi? Dove dobbiamo andare? Diamo un'occhiata qui eh Bisogna arrivare qui ragazzi Ovviamente bisogna 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 far la strada Ehm Giusta anche perché di mosse a disposizione Non ne ho tantissime quindi Ok Ok Spero di riuscire nell'impresa ragazzi eh Io voglio solo ben sperare poi come vanno vanno le cose però voglio cercare di fare tutto Per il meglio come sono abituato a fare. Poi a volte La situazione si mette anche un po' male ma Bisogna fare un po' Di attenzione su certi Livelli che si vanno ad affrontare. Poi per il resto Per il resto va benissimo così ragazzi eh Per il resto Possiamo gestire tutto al meglio O almeno ci possiamo provare O almeno Ci si può provare qui ragazzi Uh Cosa vai trovando ciccio? Ebbè Ebbè Ho fatto una schivata Non dico perfetta ma ho fatto una schivata veramente molto Molto importante ecco Una schivata molto importante Diciamola così via Ok abbiamo finito qui? Non credo manca ancora Manca ancora questo ma tanto Pochi punti esperienza ragazzi Vabbè Allora lì Questo va affrontato ragazzi Va affrontato perché non vorrei che poi Non vorrei Non vorrei commettere Errori se permettete Quindi Allora Divertimento assicurato questo titolo ragazzi Veramente Un divertimento assicurato Ma devo ripristinare un po' della mia Vitalità perché altrimenti Mi vedo messo veramente Veramente malissimo Sì Mi vedo messo veramente malissimo ragazzi Ma male 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 Uh la la Uh la la Eh devi andare giù Dopo un po' Inizia a dare un po' fastidio E se dai fastidio Poi le cose non vanno bene Devi infastidire questa battaglia Non credo sia il caso Allora Allora Però qui non sembra che Ci viene chiesto di affrontare tutti i nemici Eh almeno Sì poi ovvio che Se magari affrontiamo i nemici Forse è meglio perché acquisteremo Più punti esperienza Ok Andiamo qui Vediamo un po' Ok Ah ok Sono aumentati Sono aumentate le mostre che posso Fare a disposizione Via Ora Ora Ne abbiamo 20 Quindi Bisogna restare concentrati Per fare tutto bene ragazzi Qui eh Se si resta concentrati Possiamo Possiamo fare tutto per bene Altrimenti Altrimenti Possiamo dimenticarci Di far tutto per bene Come E questo è il problemino ragazzi Il problemino è solo questo Ma adesso Adesso si prosegue Non vi preoccupate Non vi preoccupate Vediamo un attimino qui Mi sembrava un po' strano Eh Non abbiamo finito Assolutamente no Non abbiamo finito Ma meglio così ragazzi Sono più punti esperienza Io Più si combatte Più sono contento Non è un problema Non è veramente un problema Su questo punto Di vista Quindi Poi il gioco Bello action Come si deve Quindi Ci possiamo divertire Come vogliamo Ci si può divertire Come vogliamo Ragazzi Come si vuole Allora Vediamo un po' qui Anche li abbiamo chiuso Qui cosa possiamo prendere Ok Spero di non aver fatto nulla male Qui eh Cos'è qui ragazzi Ok Lì eliminato Perché giustamente L'abbiamo chiuso Perfetto Non dico Che sto diventando Un maestro Su questa Scacchiera Chiamiamola così Però Sono diventato Abbastanza pratico Questo si ragazzi Questo si Sono diventato Abbastanza pratico E non è che Ecco Ho sbagliato A premere il tasto Non aveva senso Usare questa tecnica Però Vabbè Non aveva senso Usarla In questo modo Ma Me ne farò Una ragione Tranquilli ragazzi Me ne farò Una ragione Quindi Dovrà ricaricarsi La barra Prima o poi Sempre poi Che prima Però Allora Mamma mia Ecco Forse era meglio Era meglio Usarla qui La tecnica Però Purtroppo Ho premuto Il tasto Cerchio Per sbaglio E poi Succede questo E poi Succede questo Però comunque Lo possiamo Devastare E si Sembra di si Sembra che possiamo Devastarlo Quindi va bene Va bene Ottimo Così Allora Dove siamo Adesso Ce la possiamo Fare Ragazzi Ce la possiamo Fare Benissimo Benissimo Ah ok Ho troppo Allora Questo cosa fa Vediamo un po' Ok Sì ragazzi Possiamo fare Tanto Perfetto Siamo arrivati A destinazione Siamo arrivati Ho fatto tutto Al meglio E va bene Così Una volta che poi Si capisce Lo schema Di come fare Il problema Ragazzi Veramente Realmente Non si pone Non si pone Veramente Difficoltà Bisogna solo Calibrare le mosse giuste Cosa succede qui Diamo un'occhiata La mappa Allora Non è molto Incasinata Come mappa Quindi su questo Punto di vista Siamo Abbastanza Abbastanza Sereni Non so Non so se avrò Possibilità Di girarla Ecco Allora Qui mi fa andare Oppure Sono obbligato Ad andare Prima Nella Destinazione Comunque Stiamo a vedere Raccoglieremo oggetti Che comunque Ci fanno comodo Se ci sono È perché servono Non è che li mettono lì Per puro caso Ecco Se sono qui È perché Possono Rendersi utili In qualche modo Esaminiamo Cosa Cos'è successo Qui Siamo Siamo Molto bene Allora adesso Vabbè qui le strade sono chiuse Quindi andiamo qui Un agguato Abbiamo purtroppo Delle brutte Sorprese Allora facciamo una cosa qui ragazzi Devo riprendere un po' di energia Fatemi un attimino vedere Cosa ho a disposizione Ok Perfetto Ora possiamo combattere Perché prima eravamo un po' A riserva E quindi non va Non va affatto bene No Assolutamente Non va affatto bene ragazzi Perfetto Perfetto Ah non vuoi andare giù eh Ok Allora Mamma mia ragazzi Mamma mia Ok Non vedo molti punti esperienza Non vedo molti punti esperienza Siamo qui perché è chiusa la destinazione Quindi Andiamo un attimo qui ragazzi Perfetto Io amo raccogliere un po' tutto E quindi Girerò questa mappa in vostra compagnia Vediamo un attimino qui Esaminiamo Perfetto 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 Ok Allora Allora diamo un'occhiata qui Ma si al momento come mappa qui È molto molto Tranquilla Ci sono abbastanza scontri da portare a termine E sono contento di questo Almeno Renderemo il gameplay bello Aggressivo come deve essere Perché Il gameplay deve essere aggressivo ragazzi Qui nemici vanno colpiti No dai ho sbagliato Non serviva quella mossa Vabbè però Però Vediamo un po' qui Se avrò No Non abbiamo nulla da prendere Quindi andiamo avanti Si prosegue Avremo abbastanza da fare qui ragazzi E quindi Credo che il titolo in questione Sia ancora abbastanza Impegnativo da portare avanti Non Non finirà Così In maniera molto breve Allora qui sopra cosa abbiamo Ok La strada alla fine ragazzi Era la stessa Quindi Ho fatto il salto appunto per Ho fatto un salto di qualità ragazzi Eh sì Eh sì Uh la la Vai andiamo 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 Combattiamo in maniera perfetta qui ragazzi eh Cercherò di fare tutto in maniera perfetta Come ho sempre fatto Quindi Non è che La situazione va gestita Alla grande qui eh Non è che Va gestita Alla grande ragazzi No Atten Uh Fantastico ragazzi E beh Combat system Veramente ben fatto Ben fatto sì Veramente ben fatto Molto interessante Molto Allora Abbiamo finito Bah chi lo sa Chi lo No Chi lo può sapere Allora Chiedi Ah Ok, si combatti ancora Si combatti ancora ragazzi Ma siamo contenti di questo Siamo veramente molto contenti Eh sì Via E qui dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare un po' Attenti qui ragazzi Vai, andiamo Un attacco strepitoso Ai ai ai, questo è No, questo è aggressivo ragazzi Qui Allora, qui non sarà semplice Però possiamo Possiamo gestire la battaglia in questo modo Quindi Possiamo cercare di gestire la battaglia In questo modo, con i servant In modo da Da cercare di fare Abbastanza danno Ecco Eh sì Di fare un danno veramente Di quelli Consistenti Come si deve Come si deve ragazzi Allora, via Non va giù facilmente Purtroppo Eh no Purtroppo giù Per mandarlo Ci vuole Abbastanza impegno Ci vuole Abbastanza impegno Sì Uh, si sale di livello ragazzi Attenzione Sorpresa Abbastanza impegno Abbastanza impegno Allora, qui ci stagione Allora, qui ci vuole Allora, qui ci vuole Allora Allora, qui ci vuole Grazie a tutti. 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 Ah, ok. Ok. Vediamo un po' eh Allora 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 qui adesso io ragazzi non non l'ho capita Però bisogna arrivare lì Ok Allora fermi tutti eh Questo va affrontato e su questo non si discute Non si discute affatto Speriamo bene di aver capito adesso In che modo continuare qui la battaglia perché altrimenti Altrimenti la vedo Veramente complessa la situazione Vi dico la verità Vi dico la verità di come stanno le cose Bisogna vedere un po' la situazione In che modo la mettiamo qui adesso Bene bene così è andata Sì è andata qui Allora fino a questo punto tutto sotto controllo Fino a questo punto Tutto sotto estremo controllo Sì non ridere molto perché poi Non è mica detto che le Che le cose vanno bene in questo modo Quindi Vediamo un attimino Qui ragazzi bisogna capire molte cose No no qui bisogna capire molte cose perché La situazione non è Non è veramente facile adesso Quindi Stiamo un po' Tranquilli Stiamo un po' tranquilli qui ragazzi Perché La situazione Va Gestita O almeno Cercare di gestirla Nel miglior dei modi Nel miglior modo possibile Questo sicuramente Questo sicuramente ragazzi È un po' Complessa qui la situazione Però io credo che Credo che la possiamo Portare a termine Ci si può provare Siamo qui apposta Per Tentar di Di concludere La battaglia Nel miglior dei modi Quindi Ancora non posso Chiamare in aiuto Il mio servant Ecco adesso sì però Adesso Vai Andiamo così Perfetto Perfetto Tutto sotto controllo Ragazzi Tutto sotto controllo Che bello Che bello Mi sto gasando Poi se vinco Mi gaso ancora di più Questo anche va affrontato Perché Va anche affrontato E qui ragazzi Una bella battaglia Continua eh Eh sì Eh sì Una bella battaglia Come Come si deve Uh la la via Vi mando giù tutti Vi mando giù tutti Senza problemi Non saprei Però vi mando giù Questo Vediamo un attimino qui Se possiamo cambiare Magari Uh la la Uh la la Ok Devi star buono ciccio eh Devi stare abbastanza Tranquillo Perché dal mio punto di vista Stai un po' troppo Prendendo troppa confidenza E non credo Di averti concesso Tutto questo Tutta questa confidenza Quindi adesso Ne subirai le pene Come è giusto Che deve essere Verrai sconfitto Senza problemi E beh Verrai sconfitto Ed è marginato Da questa battaglia Si vedete qui ragazzi Bisogna sconfiggere Tutti i nemici Mi sembra Poi Ok Speriamo che vada Per il meglio Allora Bene Ok Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto E adesso Credo che Credo che Abbiamo fatto bene Anche qui ragazzi E credo che Veramente Sono Andato Per il verso Giusto Quindi Calmi tutti Calmi tutti eh Ok 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 Bene, bene, bene Molto, molto bene, sì Eh ragazzi, mi gaso Ogni volta che porto a termine una schivata perfetta Mi... Mi gaso troppo, ecco, vi dico la verità Mi gaso Ok Vediamo un attimino Allora ragazzi Il vostro Diablotex Chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Fate Samurai Remnant In versione Playstation 5 Ed in collaborazione con Plion Italia Come sempre ringrazio Tutto lo staff di Plion Italia Per avermi concesso di portare questo titolo sul mio canale YouTube Ringrazio Alessandra di Plion Italia Per avermi gentilmente inviato un codice di Fate Samurai Remnant In versione Playstation 5 Ringrazio Koei Tecmo Games Tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono e che mi supportano sul mio canale Vi ricordo che se vi farà piacere magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e magari iscrivervi sul mio canale YouTube Se i titoli che porto sono di vostro gradimento Quindi vi ringrazio di cuore a tutti e il vostro Diablotex vi dà appuntamento con il prossimo episodio Ciao a tutti e grazie di cuore Ciao